La seconda volta come Morticia e Adams, e Gomez Adams, com'è stata? Avete ritrovato subito la sintonia in questi personaggi straordinari ancora oggi, dopo una vita che sono in circolazione? Sì, c'è stata una grande evoluzione in questo secondo. Io sono stato molto contento, intanto per rinnovare, per fare un personaggio così iconico e importante, poi a cartone animati, per cui rimarrai lui per sempre. Ma c'è stata un'evoluzione bellissima. Come dicevo anche prima, in altre interviste, la mia amica Virginia Raffaele, che sono io, e lei, al mio fianco, sono tutti protagonisti. È incredibile come ci sia un equilibrio pazzesco, un'evoluzione dal punto di vista della sceneggiatura, della storia, dei personaggi. Nessuno è dimenticato, nessuno verrà lasciato indietro. Con al centro ovviamente una storia su Mercoledì, che sembra che non sia loro figli, eccetera. Però è stato bello, il peccato è non condividere la sala e doppiare da soli, ma non per motivi di copia. Anche perché io glielo dico, è inutile che doppiamo insieme. Lui mette otto minuti a finire la famiglia. Io ti ho messo 18 giorni a doppiare. Non è vero. Detto questo, non me lo fa ripete. No, bisogna dirlo, perché questa è un'altra intervista. Ho capito, però se questa è un'altra intervista, non è che l'ho detta un altro giornalista, ho detto quanto è brava Virginia. Ma quello si sa che è brava l'ha dimostrato. Nel doppiaggio non l'aveva dimostrato. Non è riconoscibile, ma questo è un punto a suo favore. Ma lo devo dire. Ma dillo. Ma dall'altra parte questa cosa. Eh, santo Dio. Magari uno vede questa, l'ha visto quell'altra. Se li vede tutti e due... Ma stai calmo, che poi ti do la pasticca. Stai calmo. Allora, una riterazione. Su 110. Infatti, i complimenti sono bellissimi. Beh, sì, perché mi invento. No, però è bello proprio per quello, secondo me, interpretare un personaggio che non si è, non siamo noi. È sparire e far vivere quel personaggio lì. Quindi se ci sono riuscita, grazie, che se non dice il povero insegno, che comunque... Non so, un pazzo scatenato. La gente andrà al cinema e dirà, Virginia Alfere, cavolo. Cioè, un'attrice, doppiatrice, vera. È un altro mestiere il doppiaggio. Grazie. Per cui sentire la voce, anche la stessa Loredana, è stata perfetta. Sì, sì. Sembra che l'abbiano disegnato su di lei. Capito? Per cui lì va bene, è un talent giusto. Loredana potrà fare però Loredana, se è Virginia, lo sappiamo che con la voce ci palleggia, per cui può fare quello che crede. Basta, detto ciò. Ma pure stamattina appena svegli, ho detto la stessa cosa. Non abbiamo dovuto un video insieme, retino. Scusate. Scusate. Va bene. No, ma infatti è questo, no? Che uno pensa al doppiaggio come una cosa estremamente leggera e divertente. In realtà è molto impegnativo, no? Forse è anche più faticoso che fare dei personaggi reali, no? È difficile. Lui magari, ecco, adesso veramente io palleggio con la voce, lui col doppiaggio e lui pure con la voce. Quindi devi stare talmente attento al millesimo col doppiaggio, a parte ovviamente prendere il time giusto del lip sync, del personaggio, eccetera. Io ho scoperto, nella famiglia Adams appunto che ho doppiato, che muovendomi un po' come il personaggio, se fai il gesto, mentre lo fa il personaggio, comunque viene l'intonazione. Poi c'è la base della recitazione, cioè pensare quello che stai per dire, banalmente. Però nel doppiaggio la cosa ancora più difficile è che devi seguire la linea guida, quindi la voce dell'originale, perché se fosse un cartone animato, come si può dire quando non l'ha doppiato nessuno? Vergine, no? Sì, come fanno gli americani che parlano, prima recitano e poi costruiscono il cartone su, perché loro non sono capaci di fare il doppiaggio. Adesso stanno imparando adesso con le varie piattaforme. Ma che è questa arroganza adesso? No, così nasce qui il doppiaggio in Italia, perché prima si diceva doppiamo solo uno in Italia, ma è vero, si doppiava in tutto il mondo, adesso finalmente siamo stati sdoganati e capiscono che pure in coreano e sette idiomi cinesi, fai su Netflix, Amazon, eccetera. È vero, è vero. E vedi pure indie, e poi ti rendi conto però a quanto siamo bravi noi, perché noi nasce negli anni venti per salvaguardare la lingua italiana, nasce qua. Vedi, il povero insegno che poi alla fine gli dai una lira e invece due cose le sa. Ma perché? Quello non litigano mai nel film, io e lei sempre. Ma che interviste so? Cioè c'è una dimensione, mettiamo il plexiglass, ma non per motivi di malattia, dico, ma puoi mettere una cosa che mi isoli. Ah, si capisce che mi ami. Non vedo caro! Io sì! Mi sono stati schiaffi! Sentite, invece un commento su questi personaggi che sono nati, mi pare, nel 38, nel 1200, cioè tantissimi anni fa, e sono ancora una bandiera, no? Delle diversità, dell'amore, anche di una famiglia che accetta gli altri, no? Quindi un vostro commento sia su Morticia che su Gomez. Eppure lei del 38 è ancora... Io ci mi ricordo che eravamo io! No, no, nel senso... Esatto, magari. No, è uno sponsor proprio per la diversità e per l'accettazione, non nel senso ovviamente fisico, delle diversità. È come per dire, se sei diverso, sei fico, sei cool. Quindi io spero che arrivi questo messaggio per chi si sente differente e poi in realtà la differenza è essere unico nel proprio genere. quindi è la cosa più preziosa che si possa avere. Che non diventi ovviamente uno stereotipo e qualcosa da costruire, perché poi si perderebbe anche quella, ma le differenze che possiamo trovare in noi stessi poi sono delle gemme preziosissime che messe insieme diventano il nostro quadro unico. Non sei mai stata così chiara da stamattina? Eh, ma è fine giornata, mi sono scaldata. Ah, certo, è marissimo. Ma anche loro due insieme sono pazzeschi, dovevo proprio seguirli, perché uno guida, l'altro viene guidato e si alternano nella dimensione della leadership. Ciao. Ciao.